L'Istituto Tecnico Bramante Genga è impegnato da anni sul tema dell'accessibilità, ovvero alla scelta di dedicare un'attenzione costante nella didattica e nelle esperienze progettuali alla necessità che i luoghi e i servizi siano identificabili, raggiungibili, comprensibili e fruibili autonomamente in condizioni di comfort e sicurezza da parte di chiunque. Quest'anno in sinergia con il Comune di Monbaroccio è stata individuata un'area da riqualificare per ricavarne un percorso per fare attività sportiva all'aria aperta ma che sia adatta a tutti, quindi accessibile. La zona è quella ai piedi del Santuario del Beato Sante all'inizio dell'area boschiva. Da anni l'Istituto Bramante Genga di Pesaro partecipa ad un progetto nazionale che riguarda l'accessibilità, un progetto che ci vede sempre sul podio dei vincitori e del quale ovviamente siamo estremamente orgogliosi. Quest'anno grazie ad una proposta del sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci che ci chiedeva una collaborazione per il recupero delle strade vicinali e quindi un recupero del territorio comunale abbiamo cercato di mettere insieme un po' le esigenze nate sia nel contesto locale ma anche le esigenze della scuola e quindi abbiamo pensato di sviluppare il progetto sull'accessibilità proprio nel contesto del Bosco del Beato Sante. Nelle scorse settimane sono stati effettuati dei sopralluoghi. La dirigente, il professor Bondi, la dottoressa Biagini e il tecnico Nadia Mazzarella hanno accompagnato un gruppo misto di studenti provenienti dalle classi Quarta G e Quarta H. Insieme a loro anche il sindaco di Monbaroccio è un tecnico del comune, un referente di Tecnogym per la consulenza sportiva e i rappresentanti di diverse associazioni per verificare le criticità della zona in relazione a diverse aree. Per la disabilità mentale la cooperativa Alfa, per la disabilità motoria la cooperativa Mosaico e infine l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Il progetto come tutti gli anni viene seguito nell'ambito di un corso di potenziamento che facciamo all'interno dell'istituto e addirittura quest'anno i ragazzi che fanno il corso sull'accessibilità lo hanno scelto e quindi lo faranno ancora con più entusiasmo. Il rilievo è stato fatto con delle stazioni totali integrate di nuova generazione acquisite da poco dall'istituto e verrà questo rilievo integrato in parte con una stazione GNSS quindi un rilievo satellitare ovviamente per le porzioni che lo renderanno possibile perché siamo in un luogo con tanti alberi quindi c'è una difficoltà tecnica e con delle riprese descrittive panoramiche fatte anche con un drone dei due che abbiamo a disposizione come istituto. Soprattutto nella fase di rilievo che abbiamo appena fatto come prima parte c'è stato il prezioso aiuto e la collaborazione del Collegio dei Geometri che ha mandato degli iscritti ad aiutare noi professori nelle fasi di rilievo e quindi dare un apporto concreto e professionale a queste fasi. Abbiamo fatto una passeggiata con queste persone, ci hanno spiegato quali potrebbero essere i problemi, quali sono le possibili anche soluzioni che potevamo adottare e dopo di questo abbiamo poi ripreso tutto in classe parlandone con il nostro professore e siamo passati subito dopo al rilievo. Invece per la zona da rilevare abbiamo diviso l'area in due parti e una classe divisa in sei gruppi di lavoro svolgeva la prima parte e poi in seguito sarebbe arrivata nei giorni seguenti la seconda classe con altri sei gruppi di lavoro a fare la seconda parte del rilievo. Abbiamo soprattutto puntato ai punti critici cercando di migliorarli in futuro con quello che sarà il progetto che faremo. Ad esprimere soddisfazione per le finalità del progetto e per le collaborazioni attivate il primo cittadino Emanuele Petrucci. Bello fare politica così, bello fare rete con il territorio. Mi sento in dovere di ringraziare questi 40 ragazzi che stanno contribuendo alla realizzazione di un progetto per noi fondamentale che è nato in maniera non direttamente per come si sta sviluppando. Eravamo partiti da una valorizzazione di strade vicinali e comunali che sono da noi sul territorio purtroppo dismesse, tanti chilometri di patrimonio dismesso e che con i ragazzi volevamo recuperare. Ci hanno aiutato a fare di più, non solo a recuperare parte del nostro patrimonio ma a valorizzarlo sotto più punti di vista. E quindi un'amministrazione che farete, un'amministrazione che condivide con la scuola dei percorsi, per me è un'amministrazione vincente.